Buongiorno a tutti e bentornati su Veder Pharma Channel. Oggi abbiamo ospiti due persone di Arsana, Marco Schiavon che è il vicepresidente e Matteo Cazzani che è il direttore vendita e farmacia. Spero di aver detto correttamente i job title, se così non è correggetemi. In particolare abbiamo ospiti Arsana in quanto rappresentano il marchio GUVI controllato, da Arsana. Marchio GUVI su cui negli scorsi mesi è stato oggetto di tante tante discussioni nel mondo della farmacia. Soprattutto diciamo è anche emerso quanto coesa fosse la categoria dei farmacisti oggi grazie anche alla forte dialogo che hanno alimentato dai social. Perché una intervista di Michelle Hunziker che è la cofondatrice e anche la front woman del marchio a Marco Montemagno ha fatto molto molto discutere perché Michelle Hunziker era stata ospite anche di Feder Pharma Channel per spiegare il marchio GUVI, è stata presente anche sulla rivista Pharma Magazine, la più importante rivista italiana con oltre un milione di copie ogni mese distribuite e presente anche a Pharma Evolution, uno dei più importanti eventi della categoria. Per spiegare GUVI e nelle sue parole, e voi mi correggerete sicuramente, la vicinanza di GUVI alla farmacia, al farmacista e la necessità anche della collaborazione col farmacista per avvalorare marchio. Questo era stato un po' l'incipit iniziale che aveva chiaramente impressionato molto positivamente i farmacisti. E poi c'è stata questa intervista che ha suscitato molte perplessità, un po' perché uno dei temi che sembrava emergere è che la strategia per GUVI fosse l'e-commerce. Quindi, come prima cosa, chiediamo al dottor Schiavone, è così o non è così? Ma vabbè, intanto è un piacere essere qua oggi e non è così. Nel contesto particolare è un'intervista fatta con Montemagno che parlava di e-commerce, di business online, di digital. E quindi su questo c'è un po' di non comprensione. GUVI è un modello di business particolare, è una combinazione fra le competenze di un'azienda come Arzana che da 50 anni, più di 50 anni, vende e produce prodotti sanitari e prodotti per bambini e che distribuisce in canali specializzati, che dedica anche a canali specializzati un molto valore e una celebrity, quindi una persona con una notorietà, con un carisma, con dei valori propri, della propria personalità molto forti. Questa combinazione è una combinazione per la generazione di valore. E all'opposto di quello che è uscito, la farmacia è uno oggi dei canali di generazione di valore e GUVI nasce con una selettività distributiva in farmacia. Poi fa della omnicanalità uno dei suoi ormai comuni ambiti in cui le aziende si muovono, che è quello di combinare comportamenti delle persone diverse. Le persone si comportano comprando in farmacia, comprando online, comprando in altri canali, quindi GUVI cerca di sposare queste attitudini, questi comportamenti in una modalità di linguaggio e di freschezza e di semplicità che è quello del marchio GUVI che rappresenta poi attraverso Michelle. Quindi diciamo che non è la strategia di sfruttare la competenza della farmacia per poi andare a fare risultati e valore, generare valore da un'altra parte. Ma la farmacia, l'hai detto, è uno dei canali, quindi, che ha a disposizione? Sì, perché abbiamo questo come canale di presentazione, di argomentazione, di racconto e abbiamo le vendite che GUVI nel suo e-commerce fa. Oggi hanno un rapporto oggettivamente sproporzionato, vendiamo molto di più in farmacia ovviamente che l'online, e l'online integra l'esperienza di acquisto di GUVI. Le persone dall'online vanno nel fisico, dall'online le portiamo nel fisico, usiamo spesso voucher che possono essere scaricati in farmacia, c'è la localizzazione della farmacia dove siamo distribuiti, raccontiamo iniziative in che farmacie vengono fatte e in farmacia le persone poi trovano e arricchiscono la parte informativa intorno ai prodotti di GUVI, perché online possono trovare alcuni elementi, possono magari vedere le novità e poi vanno a approfondirle e capirle e comprarle anche in farmacie. Dottor Cazzani, ma lei che presumo visiti molto più frequentemente le farmacie, vede effettivamente che la farmacia è il canale lettivo di GUVI o è l'e-commerce in qualche modo, anche se oggi diceva sproporzionato, nel futuro? È il canale di riferimento, è il canale lettivo comunque la farmacia. La dimostrazione sta nel fatto che la gestione del marchio GUVI è stata data a una rete storica di Arsana che è dedicata alla farmacia. Già questo secondo me è una delle garanzie sul fatto di dove vuole andare questa azienda. Anche come attività ne stiamo facendo tantissime per la farmacia, perché attraverso una serie di contratti con le farmacie che ci stanno seguendo oggi nel percorso GUVI è un percorso di crescita, nessuno pensa di partire pronti via e di ottenere subito un risultato. È un percorso molto lungo quello di far crescere un marchio nuovo che è partito da zero, due anni fa, è partito da quando è nata l'idea GUVI tra le persone che hanno deciso di fare questo nuovo percorso. L'obiettivo è quello di lavorare insieme alle farmacie, ovviamente con quelle farmacie che hanno sposato il progetto GUVI, perché è impensabile che tutti possano seguire tutti i marchi che oggi vengono presentati all'interno delle farmacie, però come azienda attraverso una serie di contratti, attraverso una serie di iniziative, attraverso una serie di promozioni particolari che vengono fatte, anche molto più aggressive rispetto magari a quello che si può trovare nella parte online, per cercare di portare il marchio GUVI a dei valori molto molto alti che sono le nostre aspirazioni. Quindi siamo molto dedicati alla farmacia, quello sì. Perché ad oggi GUVI non è commercializzato attraverso la grande distribuzione? No, oggi noi andiamo attraverso le farmacie, che è il nostro canale di riferimento, e attraverso la parte online dove personalmente non ho nessuna voce in capitolo, quindi a maggior ragione è una concentrazione praticamente quotidiana sul canale farmacie, sul fatto di far funzionare le farmacie insieme a tutte le persone della mia rete che devono cercare di lavorare in un certo modo. E quindi l'e-commerce diventerà o no il core della strategia di GUVI? No, non diventerà il core. Io penso che siano veramente pochi i business oggi che potranno dire di essere venduti solo online. Sicuramente poi i business come questo, che fanno della parte del contenuto di ciò che vendono, un elemento rilevante, quindi è sapere che cosa c'è dentro e avere qualcuno che ti racconta quello che c'è dentro, che cosa può fare per te, se è giusto per te, fondamentale. Difficilmente io penso che uno possa comprare integratori e domani dire, beh, io semplicemente faccio il mio business online, integratori alimentari faccio il mio business online e quello è sufficiente. Perché parliamo di salute, perché parliamo di benessere, perché parliamo di persone tutte diverse una dalle altre, persone che il farmacista in questo caso qua conosce, perché tante volte il farmacista conosce le persone, sa chiedere le cose giuste per raccomandare le cose giuste, è un po' quello anche il ruolo che noi vogliamo e di cui abbiamo bisogno, che arrivi dalla farmacia per dare questo di valore a Gufi Gufi, è una combinazione fra la straordinaria positività che una donna come Michelle porta, sia nel pensare le cose e il come le poi le elaboriamo nella semplicità della formulazione e la straordinarietà e la bontà di queste formulazioni che hanno bisogno di qualcuno che la sappia raccontare bene. Quindi questo è il... quindi non lo vedo tutto online, impossibile. Perché infatti un altro dei temi che aveva anche suscitato un po' di perplessità nell'intervista sempre di Michelle riguardava questa risposta che non era chiara sul forse anche quasi avvantaggiarsi della credibilità del farmacista. No. Cioè non è così? No. È un processo di generazione di valore. Michelle è una persona molto celebre, nota, che ha del valore. Noi come azienda stiamo investendo insieme a lei nella generazione di valore in un marchio e l'unico modo per generare valore è che qualcun altro in questa catena lo abbia il valore. Noi abbiamo scelto la farmacia e la distribuzione specializzata che arriva dalle farmacie perché questa è la generazione del valore. Non è un avvantaggiarsi, non si può avvantaggiare solo un pezzo di una catena del valore. Tutta la catena del valore si avvantaggia. Se tutte le componenti acquisiscono un pezzo di questo valore il sistema funziona, non può non funzionare, non può funzionare senza tutti questi elementi. Quindi c'è l'elemento distributivo, l'elemento come del nostro gruppo che è quello del supporto nella formulazione dei prodotti, nella loro distribuzione e poi in questo caso della celebrity che ci mette lo spirito, che ci mette l'energia, che ci mette i valori. Tra l'altro questo modello della celebrity è inedito penso per il mercato italiano, soprattutto sull'ambito della salute. Sì, sì, molto inedito. Ce ne sono negli Stati Uniti molto legati ai consumi un po' massa, al mondo della cosmetica, al mondo della bellezza, ce ne sono molti. Ci sono casi decisamente interessanti. Per l'Italia e in questo momento per il mondo della salute sì, è un caso unico. È un caso unico. È un'interpretazione molto particolare. Ma anche negli Stati Uniti, dovunque ci sia una celebrity, però stiamo parlando sempre di prodotti premium. Beh, questa è domanda assolutamente giustissima, prodotti premium. Proprio perché la celebrity ha un valore, perché il valore della celebrità è un valore. Non si lavora mai su prodotti basici, i famosi entry price, le commodity. Si lavora su prodotti ad altissimo contenuto, ad altissimo valore. Quindi è proprio un'affinità fra il valore rappresentato dalla notorietà di una persona e la bontà delle cose, dei prodotti, degli oggetti, dei servizi che vengono dati. E quindi sono comunque prodotti premium. E prodotti che generano quindi anche marginalità e risultato. E quindi riconoscete nella farmacia anche un canale di valore in questo senso? Sì, assolutamente sì. E come vi aspettate che sia il futuro della farmacia e il futuro di Guvi e dei prodotti Arsana? Beh, un pezzo sul futuro della farmacia lo dici tu, poi il resto lo dico. No, come immagino il futuro? Sicuramente mi immagino un marchio che raggiunga certi standard, certi livelli di rotazioni, di fatturati. Questo è fondamentale. E lo si ottiene solo attraverso un lavoro di squadra, ma non solo la squadra nostra, delle persone che vanno in farmacia, ma di tutto il team della sede. Perché prendo sempre l'esempio, visto che parliamo di e-commerce, parliamo di quello che fa il sito, utilizziamo anche il sito per cercare di mandare molta gente in farmacia. Cioè il parco delle persone che sono iscritte oggi al sito ricevono tante comunicazioni per andare in farmacia e di conseguenza per portare Guvi come punto di riferimento nel canale della farmacia. Quindi come lo vedo? Lo vedo probabilmente tra un anno dove magari circoliamo in questa intervista dove si parla di un fattore di successo di Guvi per quello che siamo stati in grado di fare all'interno della farmacia. Questo è quello che mi auguro da qui a un anno. Perché c'è la volontà da parte di Arsana di arrivare a certi livelli grazie alla storia di Arsana. Perché Arsana in tutte queste cose che sono successe magari nei mesi passati, una cosa che mi ha fatto molto piacere è vedere l'attaccamento che hanno i farmacisti ad Arsana. Per la storia di Arsana. Marco diceva che sono 60 anni che abbiamo fatto l'anno scorso e sono 60 anni di una grande azienda. Io faccio parte da 20 anni, quindi ho visto tanti passaggi all'interno di questa azienda. Sono tante persone che hanno visto crescere un'azienda che è sempre stata al fianco della farmacia. Per come posso vederla e per come ragioniamo all'interno della sede di grandate. Un'azienda italiana? Assolutamente italiana. Io aggiungo un po' una vista che è quella un po' più fortunata che guardando un po' anche i business nel mondo. L'e-commerce è sicuramente un trend importante perché è un trend di comportamento delle persone. Però a diversi livelli, in diverse situazioni, in diversi contesti si vede come a un certo punto non possa essere solo online. Le persone hanno bisogno di riferimenti, poi c'è alcune categorie che lo sono più di altre. Io penso che la sfida delle aziende, quindi non solo per Goofy, non solo per noi ma per gli altri business nostri, per altre aziende, sia quella di trovare, nello specifico poi in Italia, una collaborazione e un lavoro da fare insieme, perché non è una cosa che oggi disegniamo e siamo pronti a disegnare i prossimi dieci anni. Ci saranno tanti cambiamenti dati anche dalle tecnologie che non solo favoriscono lo sviluppo dell'online, ma favoriscono tantissimo anche lo sviluppo fisico, perché le tecnologie aiutano nella preparazione, aiutano nel supporto, aiutano nel seguire. Quindi le aziende, io penso che il segreto nostro è che lo sforzo dove dobbiamo in qualche modo impegnarsi sempre di più, sia quello di lavorare tantissimo con i nostri partner, quindi con i nostri clienti, i nostri farmacisti, nella costruzione del cambiamento del futuro, che richiede sperimentare, provare, investire, quindi questa è la sfida. Ma sono certo che il mondo della prossimità, della vicinanza, del rapporto uno a uno, del saper raccomandare, del saper seguire, del saper proporre le cose, sia nel mondo della salute il futuro. Non potrà essere qualcosa di assolutamente intangibile che uno clicca e fa tutto lì. Non è fra un pezzo, ma non tutto. È molto e molto probabile. Tra l'altro, proprio di questi giorni, è anche uno spot di una nota compagnia di telecomunicazioni che lancia il 5G, che sarà questa rete rivoluzionaria, che comunque focalizza sul tema della salute, quindi si vede addirittura un cardiochirurgo operare remotamente. Indubbiamente siamo probabilmente ancora alle porte di un cambiamento ancora più veloce rispetto a quello che c'è stato in passato e in questo sarà importante chiaramente per la farmacia trovare dei partner con cui lavorare per evolvere in maniera sana, in maniera corretta. Ci ha fatto piacere avere qui ospiti i vertici di Arzana, che hanno chiarito le loro posizioni, hanno chiarito qual è il percorso che hanno fatto. Ci hanno anche raccontato un modello che è interessante, perché questo modello del celebrity è sicuramente abbastanza originale sul mercato ed è qualcosa anche da approfondire e tenere presente. Vi ringraziamo, speriamo veramente la collaborazione con la farmacia ci sia e aspettiamo anche di vederla in futuro. Grazie e speriamo che anche Michelle Unziker condivida completamente questa vostra posizione. Assolutamente sì. Grazie. Grazie.